Da Sannino a Venditti, premio per il teatro a Vincenzo Salemme. È stata presentata questa mattina presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno la 32esima edizione del Premio Charlotte. La Kermess, che anche quest'anno si terrà tra il Cinema Teatro delle Arti e l'Arena del Mare di Salerno, offrirà al pubblico un cartellone ricco di appuntamenti che dal cinema spazieranno alla musica, dal cabaret al teatro. Il taglio del nastro ci sarà sabato 11 luglio con il concerto di Andrea Sannino, inserito nella programmazione del Sisan. Il giorno dopo, il 12 luglio, il Teatro delle Arti partirà con la rassegna cinematografica in onore di Federico Fellini nel centenario della sua nascita. Dal 2 agosto si ritorna all'Arena del Mare e si inizia con lo Charlotte in Tour. Tutto che è una 32esima edizione, è una cosa che ci fa onore e piacere, ma soprattutto che come abbiamo abituato il nostro pubblico, cambia pelle il premio. L'anno scorso abbiamo detto che avremo annullato la serata di gala e avremo fatto invece spettacoli special. Anche quest'anno avverrà questo, ci sarà la rassegna con i comici, con ingresso gratuito, ci saranno gli spettacoli family show, ma ci saranno due serate importantissime dove ci sarà l'omaggio fatto al Festival di Sanremo, con l'orchestra di Sanremo e con due grosse star che ancora non vi annunciamo. Il 5 agosto spazio alla musica con una serata Sanremo e Sanremo che vuole raccontare 70 anni di un sogno, un omaggio alla più prestigiosa Kermess musicale. E per farlo è stato invitato un artista di grande fama come il maestro Leonardo Di Amici, affiancato da uno dei migliori autori di questi tempi, Paolo Logli. Sanremo e Sanremo, 70 anni di sogni, che cosa c'è da attendersi per quella serata? Sarà lei a dirigere l'orchestra? Sì, è un progetto ambizioso, calcolando i tempi che stiamo vivendo, però riteniamo che l'arte, la cultura, l'intrattenimento sia una cosa fondamentale per una società civile, per cui noi ci rimettiamo in campo. Sanremo ci ha regalato 70 anni di sogni, di canzoni, e la colonna sonora della nostra società. Cercheremo di rispettare questa memoria in un modo bello, con una buona scrittura. Il maestro Paolo Logli scrive il copione e io mi occuperò della musica. Racconteremo musica e parole in questo bel viaggio. Grazie a tutti.